Buongiorno a tutti, eccoci qui, bentrovati come sempre, già vigilia e poi sarà partita della vita, partita decisiva con due risultati su tre a Barcellona e vi porterò con me intanto per rievocare anche imprese in terra spagnola ringrazio le cox sportif che mi ha omaggiato di questa replica del mondiale dell'82 con il vecchio scudetto per festeggiare questa grandissima vittoria, grazie per l'omaggio che naturalmente vi abbiamo mostrato adesso concentrazione massima perché bisogna riprendere terreno, anche recuperare punti in campionato sfruttando questa scia, speriamo più positiva possibile, della vittoria col Barcellona ambiente rasserenato, ieri ho passato tutta la giornata da piano, ho parlato con Bastoni tra poco vi leggo anche le sue dichiarazioni, mi sembra che tutti vadano in una direzione che adesso questa vittoria abbia rasserenato e dato quella fiducia che mancava, che ci voleva l'avevamo detto, come un anno fa a Torino per uscire dal momento difficile è chiaro che sarà una partita e lo insegna la storia di difficoltà estrema domani ora di pranzo, ore 15, post pranzo bisogna fare qualcosa di più in trasferta dove l'Inter ha avuto le difficoltà maggiori considerando anche che il derby col Milan l'ha giocato in trasferta come sottolinea il Teccaldo più famoso di Youtube, adesso bisogna accelerare, dare un'accelerata lunga fino alla pausa per i mondiali un po' di turnover sarà indispensabile anche in vista della gara col Barcellona problema portiere, secondo me, proprio anche per non andare a creare una turbativa una problematica nello spogliatoio giocherà Andanovic e poi contro il Barcellona Onana e dopo vedremo che decisione verrà presa anche se, insomma, mi sembra che sia chiaro l'ha detto, me l'ha detto anche Bassoni tra le righe che Onana con la sua fisicità con le sue anche uscite con la sua esplosività dà anche tutta un'altra tutta un'altra sicurezza al reparto che è tornata a non prendere gol in una partita così difficile però almeno la sensazione che non si vadano a creare anche per preservare poi Onana per quella che è una partita la partita della vita perché se riesci anche solo a pareggiare ma non devi giocare mai per il pareggio perché poi va a finire che perdi ma se riesci a portare a casa un risultato positivo non parliamo di una vittoria perché vorrebbe già dire qualificazione ma vai a fare un'impresa che forse nessuno dava anche solo la possibilità all'Inter quando è uscito il girone basterebbe un pareggio se poi batti il Pilsen matematicamente perché poi al Barcellona anche vincendo gol Bayern Monaco non avrebbe modo di di raggiungere i nerazzurri bisogna non perdere e fare una partita importante dicevamo da vedere quale sarà la decisione in porta sensazione mia ve l'ho data magari sbaglio vediamo cosa deciderà Inzaghi rientra secondo me a Cerbi perdevrai in mezzo alla difesa probabile che magari giochi di Marco Braccetto con Gossens che è fresco con Dumfries a destra in mezzo al campo Tornaslani con Cialanoglu e Barella e davanti Lautaro e e Geko a meno che non si voglia preservare Lautaro e si giochi con Mkhitaryan in appoggio a Geko almeno inizialmente però non c'è non c'è non c'è spazio non c'è possibilità di di fare calcoli l'Inter ha perso troppi punti in campionato e deve deve sicuramente fare fare meglio e soprattutto è al nono posto in classifica deve recuperare terreno quindi credo che i calcoli non siano ammessi nonostante la partita di mercoledì sia quella della vita per Correa c'è un risentimento tendineo al ginocchio sinistro ma non preoccupa una cosa che al massimo credo che gli faccia saltare la partita di domani sarà costretto a pescare dalla primavera Carboni e Curatolo io ve l'ho detto io butterai subito nella mischia Francesco Esposito che così visto come me ne parlano bene quello che ho visto anch'io con i miei occhi classe 2005 e ha una fisicità importante che può anche reggere a livello serie A secondo me anche se con questa primavera stanno un po' facendo fatica tutti questo dunque in vista di Sassuolo situazione Lukaku ancora da decifrare per qualcuno ieri il controllo è andato bene per altre voci che sentivo forse ci vuole ancora un po' di prudenza difficile una panchina mercoledì però vedendo anche la sua carica che posta foto vediamo cosa aspettarci però potrebbe volerci ancora un po' più di tempo cosa è successo qualche qualche cosa non ha funzionato nel suo recupero adesso che che ne parlino i cialtroni ma come avete visto non era una decisione da prendere di prudenza e basta gli ultimi esami di controllo fatti la settimana scorsa hanno sconsigliato non hanno visto una situazione definitiva come per Cialanoglu e hanno rallentato il suo rientro in campo adesso ce lo si dimentica quasi ma l'Inter ormai sta giocando da più di un mese senza Lukaku e c'è un Lautaro che non segna addirittura dal 30 agosto ragazzi l'ultimo gol di Lautaro è del 30 agosto siamo al 7 ottobre capite che insomma ti manca Lukaku Lautaro non segna è chiaro che sei in difficoltà attenzione che i titoli iniziano ad andare su dechetelare Corriere della Sera titola Il Mistero dopo la partita col Chelsea parecchie critiche quello che era nuovo cacca adesso inizia a diventare un problema vediamo chiusa aperta e chiusa parentesi per quanto riguarda poi la situazione che abbiamo detto e spiegato qualcuno mi ha chiesto ma me la rispieghi bene la vera storia di Dybala perché Dybala non è non è arrivato all'Inter ne abbiamo sentito di tutti i colori qualcuno anche dice perché Inzaghi gli ha preferito Correa e abbiamo detto che non ci sta come come narrazione ma soprattutto Dybala non è arrivato all'Inter ve l'ho detto ieri e lo chiarisco ancora di più oggi Dybala non è arrivato all'Inter perché ha tirato troppo la corda e nell'incontro strombazzato davanti a telecamere smartphone e Taccuini ha continuato a chiedere la luna e non ha accettato quella che era la proposta dell'Inter e che era una proposta superiore a quella della Roma e non si era ancora chiuso con Lukaku e l'Inter comunque voleva chiudere con Dybala il problema di fondo è stato che lui ha tirato in lungo e non ha accettato quello che gli era stato offerto poi si è chiuso con Dybala si è chiuso con Lukaku si è messo in stand-by Dybala gli si è chiesto di aspettare aspettare perché a quel punto lì bisognava alleggerire il reparto d'attacco da 2-3 giocatori e dopo un po' di attesa inutile alla fine per non perdere ulteriore tempo e stagione anche lui ha accettato l'offerta della Roma ma la responsabilità principale è stata sua che non ha accettato quello che gli era stato offerto e continuava a chiedere quasi 10 milioni di bonus alla firma e non considerava neanche sufficiente la proposta contrattuale è chiaro che poi passando il tempo comprendendo che certe cifre non le avrebbe prese da nessuno si è accontentato dell'offerta della Roma non ha più aspettato l'Inter perché ha capito insomma che era difficile cedere Sanchez Pinamonti e uno tra Geco e Correa per non rimanere con la Cerino in mano alla fine ha accettato la Roma che comunque l'ha sempre seguito e gli ha fatto un'offerta molto buona con la titolarità garantita cosa che l'Inter non gli aveva non gli avrebbe più dato perché con Lukaku la Lula era l'opzione principale quindi anche lui poi non era più così convinto di aspettare l'Inter e allora ha preso qualcuno scrive perché ha accettato un'offerta inferiore allora perché alla fine non c'erano più le condizioni quando l'Inter gli ha fatto la sua offerta e anche lui ha capito insomma che sarebbe stata un'alternativa e questo ha portato al fallimento dell'operazione come avevamo anticipato rispetto a tutti come prima di tutti ne abbiamo parlato come vi abbiamo messo in guardia nel momento stesso in cui Lukaku è diventata una possibilità reale poi si è concretizzato vi abbiamo detto adesso Di Bala solo se diventa quasi impossibile solo se cedi velocemente Pinamonti Sanchez e uno tra Geco e Correa che sono ancora lì quindi questa la mia narrazione secondo me più vicina alla realtà possibile rinnovo di Skriniar se ne parlerà settimana prossima al ritorno da Barcellona anche Bassoni ha detto sicuramente farà la scelta migliore sta alla grande all'Inter quindi a sgonfiare tutti i possibili mal di pancia c'è una fascia da capitano che potrebbe dargli ed essere un incentivo ancora maggiore per per convincerlo e secondo me non bisogna neanche aspettare tanto e abbiamo visto anche che effetto ha avuto dagli questa fascia che partita ha fatto contro il Barcellona ne abbiamo parlato primi in assoluto già quando è saltata la trattativa per Bremer vi abbiamo detto resta Skriniar e si cercherà di rinnovarlo perché non si è ancora rinnovato perché chiaramente quella che era una convergenza pre offerta del PSG sui 5 milioni non è più sufficiente perché adesso dopo l'offerta che gli era stata fatta in estate da 8 e mezzo è chiaro che quelle cifre non sono più possibili perché il giocatore vuole di più si era letto sulla gazzetta 7 e mezzo più di un mese fa prima della gara con il Pilzen vi ho detto che con i bonus si cercherà di arrivare a 7 qualcuno ci aveva attaccato per la nostra il nostro mega scoop e poi adesso lo riprende praticamente fa fanno sempre più ridere fanno sempre più ridere come le continue minacce ci facciamo una bevuta una risata poi per le traduzioni delle parole di Arumayan mi viene ancora più da ridere perché noi abbiamo fatto tradurre da due giornalisti che parlano come lingua madre madre lingua araba due illustri giornalisti come Ajit Zbawi di Bean Sports ci hanno tradutto letteralmente passo passo e poi anche dall'arabo all'italiano non dall'arabo con google translate e poi con google translate dall'arabo all'inglese e poi dall'inglese all'italiano italiano forse italiano per per quei cialtroni che non conoscono manco la grammatica e la lingua italiana il succo rimane sempre lo stesso si diceva che erano state manipolate le dichiarazioni alla fine traducono sempre quello che vi abbiamo detto che difficilmente il gruppo PIF farà un grande investimento in Europa perché ha scelto il Newcastle ha scelto la Premier League che ti permette di fare una operazione finanziaria che tutte le altre diciamo realtà dalla Francia all'Italia non ti consentono e lo vediamo benissimo dai conti dell'Inter che potrebbe fare tutto in questo momento tranne che guadagnare con tutti i debiti che ha e che genera e che solo penso quando partirà una volta per tutte il progetto stadio a proposito tutti a guardare il nostro mega speciale che vi spiega come sia possibile ristrutturare San Siro con gli ingegneri aceti e magistretti che vi hanno spiegato nel dettaglio come sia possibile ristrutturare San Siro spendendo meno della metà salvando la scala del calcio soprattutto trasformandolo in un impianto di nuova generazione aumentando i ricavi anche per le società non impedendo comunque di creare intorno quel progetto di riqualificazione della zona con parchi con uffici centri commerciali la cittadella dello sport tutto quello che sta nel progetto ma senza andare a demolire San Siro a costruire la cattedrale con anche costi ecologici nettamente inferiori all'inquinamento che provocherebbe tutta invece l'operazione per cui spingono Milano e Inter senza neanche voler vedere quanto sia possibile guadagnare di più risparmiare senza creare problematiche ulteriori ambientali e rimodernando San Siro con una manutenzione ai primi due anelli per sistemarlo al massimo continuando a giocarci in sicurezza lavorando per spicchi e andando a poi a creare un impianto top poi la cosa più assurda è che sono previsti lavori di ammodernamento anche con spese non da sottovalutare previste per per farne un impianto top per la cerimonia di inaugurazione delle olimpiadi invernali Milano Cortina e poi lo demolisci cioè butti via non so quanti quanti soldi per poi demolirlo quindi tutti a likeare condividere mettere like al video sul per salvare lo stadio di San Siro per dare anche un messaggio e poi naturalmente iscrivetevi al canale per quanto riguarda le dichiarazioni abbiamo fatto un bellissimo anche preciso articolo anche degli altri non solo del tweet che è uscito ma di tutto il discorso che che viene svolto tra l'altro verificando direttamente alla fonte altra cialtronata di radio capra rossonera che questa intervista sarebbe di agosto è stata realizzata pochi giorni prima dalla messa in onda quindi entro una settimana altre fake su fake su fake che naturalmente combattiamo e noi vi chiariamo andiamo a leggere un po' di vostri messaggi senza perdere ulteriore tempo ringraziando tutti i nuovi abbonati e quelli che sostengono il nostro canale il nostro progetto di comunicazione e continuiamo a salire puntando i 40k quindi iscrivetevi al canale un po' di messaggi poi leggiamo anche l'intervista a Bassoni nella rassegna stampa la cosa che fa più rabbia è che questa squadra è la più aiutata dagli arbitri negli ultimi 15 anni riferimento a Barcellona di Corrado Mancini quando tre anni fa c'era un rigore nettissimo su Sensi e l'abbiamo ricordato speriamo che il ritorno sia una partita non condizionata dall'arbitraggio forza ragazzi ragazzi adesso bisogna dare continuità anche in campionato Vischios Mario Violante perdonate l'ardire ciò che è successo martedì sera cioè giocare Bassi tutti dietro la linea della palla ripartendo quando potevamo la prima volta che accade con Inzaghi se lo scorso anno nel momento di maggiore difficoltà tra febbraio e marzo per esempio nella sconfitta interna con Sassuolo e poi nelle successive partite in cui abbiamo raccolto pochissimo e subito tantissimo avessimo giocato più dietro senza cercare di dominare il gioco a Greer Alti forse sottolineo forse la corsa a Scudetta avrebbe potuto avere un esito diverso con i sei con i ma non si va da nessuna parte però più volte anche noi abbiamo consigliato questo abbassamento del baricentro soprattutto in partite del genere anche poi soprattutto aspettando il ritorno di Lukaku che una squadra così può aiutare così bassa le sue ripartenze salutiamo Salvatore Carrabino Meg Crano se giochiamo come contro il Barca la squadra funziona è comunque una variante cioè quando chiedevamo qualcosa di diverso questo può essere qualcosa di diverso quindi abbassarsi resistere difendere duri e poi ripartire Gabri Melodino se è arrivato il momento di rialzarci e tornare a vincere con continuità determinazione Luca De Feo si tende sempre a farsi trasportare dall'onda della critica bisognerebbe pensare all'intera carriera quanto di buono ha fatto negli anni andano ci ha dato dimostrazione di essere un portiere straordinario come hai spiegato gli anni pesano non è compito di Samir gestire le nuove gerarchie se sta bene il capitano continua giustamente per la sua strada credo che l'errore sia stato in questa strana alternanza e sono in parte d'accordo però vi ho detto anche come l'ha spiegata no? Nando Orsi quando inizi a invecchiare il peso va all'indietro i muscoli non sono più così esplosivi e quindi rimani un po' ancorato sulla linea di porta non sei più come quando eri giovane che puoi volare da una parte all'altra Mimmo era a Barcellona tre anni fa ricorda due rigori le proteste di Conte Oriali siamo usciti andammo in Europa League e non abbiamo fatto tutta questa cerimonia Boifer posso anche condividere la questione del rispetto per Andanovic quello deve rimanere sempre rimanere sempre poi appunto noi abbiamo auspicato fin da subito la la risoluzione a favore di Onana dell'alternanza sottolineando però anche le problematiche che ci possono essere poi all'interno dello spogliatoio Dani Scrinere il capitano si è visto col Barcellona ogni volta che Onana parava gli dava pacche sulla spalla è un bel gesto ma lo si è visto anche in altri frangenti grazie per i tuoi commenti e analisi sempre equilibrati Marco Aureliani non dare importanza a chi continua a delegittimare la squadra la società concentrati per andare avanti Dai e tutti con la nostra Inter grazie Marco saluti dal Canada Ferdinando 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 Federico Salvini se in attacco ci saranno tutte queste assenze un Mkhitaryan in coppia con Lautaro e Aslani a centrocampo sarebbe una buona soluzione l'abbiamo detto un'alternativa ho visto il Milan Pioli sul 3-0 faceva cambi conservativi pensando a Domenica Ambrosini in telecronica invece di criticare l'atteggiamento faceva i complimenti parlando di allenamento e vabbè Marco grazie per le tue notizie Francisco Pilar Aldo Moliterno senza parole si nascondono dietro a un dito in tutti i modi Ivan avvantaggiato rinnovo di Skriniar me lo auguro non vorrei perderlo a gennaio su gennaio io credo che non ci sia neanche questa possibilità vediamo cosa poi diranno questi incontri per il rinnovo con il suo agente quelle che saranno le sue richieste dobbiamo continuare a giocare in questo modo sempre solo forza Inter Matteo Peirone mister 7 Nanetti il Barcellona che si lamenta gli arbitri dallo stesso effetto della Juve che si lamenta in Italia Inter club Ugento bisogna vincere a Sassuolo adesso molto probabilmente il nostro destino dipenderà dal Bayern fosse Marotte Zanetti comincerà a creare una certa sintonia che credo ci sia già l'unica paura che il Barcellona può fare all'Inter è condizionare l'arbitro Fabri Motta Skriniar capitano subito salutiamo Mattia Nero Blu Alessandro Frontini speriamo che al Camp Nou si giochi a calcio dopo quanto visto ieri sono abbastanza preoccupato tirando le somme della terza giornata di Champions noi partita tutta a cuore e carattere contro un avversario forte ma poco efficace quando si tratta di essere concreti il Napoli Mara Maldeggio in quel di Amsterdam complimenti la Juve ne vince una contro un avversario di noto spessore internazionale il Milan prestazione mirabolante a Londra pensiamo a Sassuolo prima di tutto che è ugualmente importante e direi Giovanni Salsano Frank Nerazzuro se l'arbitro che dirigerà la gara contro di noi è intelligente non cadrà in trappole e lo speriamo vivamente salutiamo mandiamo un abbraccio a Luca Clerici e a tutti quelli che ci sostengono Giordano Inter una squadra come il Barcellona che fa tutta questa polemica per un episodio veramente esagerato che poi lo devi vedere cento volte non sei sicuro che ci sia o no quel tocco di mano solita tecnica catalana quando perdono Stefano Catani che salutiamo anche lui il Barcellona sta mettendo pressione all'arbitro per la partita di ritorno è perché come si sono indebitati con tutte le le rabone che hanno fatto in campo finanziario non riuscissero ad arrivare agli ottavi di Champions per loro sarebbe un'ammazzata incredibile pensate che volevano un anticipo dalla UEFA sui soldi della Champions il clima esplosivo ci sarebbe stato comunque Luigi Fantauzzo sono così direi che ci siamo ringraziamo tutti voi che ci iscrivete ci sostenete ogni giorno iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto andiamo a leggere prima di tutto le parole di Bastoni intervista esclusiva che ha spiegato come tutti tutti remano dalla stessa parte intanto ha chiarito quel post con Gavi che non aveva nessuna intenzione polemica era una foto di gioco di lotta di grinta senza nessuna implicazione ma poi si possono minacciare le donne si possono minacciare le persone per un post in cui gioisci per una vittoria sportiva ci dissociamo da tutto questo noi siamo sempre col nostro allenatore ha detto anche lui ha bisogno di una mano credo fosse contento ha visto che c'è una squadra che lotta per lui è stata una vittoria per Inzaghi perché sono uscite voci che dicevano che qualcuno remava contro ma non è mai stato così siamo un gruppo sano tutti combattiamo l'uno per l'altro non ci sono mai stati problemi da questo punto di vista è stato frustrante perdere tanti punti in campionato sapevamo che c'era da cambiare qualcosa ci siamo parlati arrivando alla conclusione che era importante esserci gli uni per gli altri sulla sua rabbia di Udine ha detto è stata una reazione forte per le cose che non venivano in campo una frustrazione verso me stesso su Scrinia l'ha detto Mina farà le sue valutazioni si trova alla grande qui sa che ha la stima di tutto il mondo Inter sarà lui a prendere la decisione giusta che sarà la scelta migliore per il suo futuro speriamo che sia a tinte nero-azzurre andiamo a leggere i giornali tra l'altro potete vedere un estratto ancora oggi alle 13 su Italia 1 delle parole di Bastoni visto che non c'è conferenza stampa poi cercheremo di capire le decisioni di Inzaghi soprattutto per la porta stasera in live ore 23 mi raccomando Inter il codice rimonta in prima Inzaghi le regole per tornare in corso in campionato basta prime donne Lautaro al top il Jolly Mkhitaryan è una difesa in stile Barcellona andiamo all'interno ecco la nuova Inter Inzaghi la terapia da rimonta umiltà difesa è il vero Lautaro Jolly Mkhitaryan da mezzalo più avanzato è la variante per il futuro il tecnico vuole più spirito di squadra Barcellona non è una notte isolata di coraggio e follia Barcellona è uno stato della mente e del corpo una piantina da innaffiare giorno dopo giorno Simone Inzaghi lo ha ripetuto alla truppa affamata di punti che guarda al Sassuolo Aslani adesso ritrova il posto occhio a Mkhitaryan centrali compatti e più aiuti dalle fasce in attacco il Toro ricerca il gol la svolta però sarebbe il ritorno di Lukaku basta sbracciare troppo i Big D hanno l'esempio in campo con i compagni aspettando Lukaku Simone ha poche armi davanti l'argentino a secco da oltre un mese costretto ai lavori forzati poi si parla anche di Skriniar i compagni in pressing resta fino a giugno incontro dopo il Barca come ormai vi abbiamo detto da tempo e poi la trattativa entrerà nel vivo durante i mondiali si avvicina l'ora X o meglio l'ora K che è una lettera più affina a Skriniar il momento in cui da un lato siederà l'Inter nel suo stato maggiore e dall'altro i rappresentanti di Milan Skriniar la gente Sistici dopo il ritorno col Barcellona ci sarà la convocazione ufficiale ma prima nessuno sta con le mani conserte soprattutto chi passa in telegiornata assieme allo Slovacco e colui sta provando a raddrizzare una stagione che pareva storta e vedremo se questo incontro darà i frutti previsti poi quelli del Vivaio una pagina indicata a Di Marco il milanese che ce l'ha fatta sulle orme di Beppe Bergomi quindi una lettura interessante che però non abbiamo tempo Corriere dello Sport Mou una beffa perdono Roma e Lazio pagina indicata all'Inter su questa alternanza importa adesso che bisogna decidere Onane Andanovic il sorpasso è pronto stando tra i pali in modo diverso uno rilancia e l'altro apre dal basso oltre gli errori dello sloveno le attitudini possono lanciare l'africano l'orgoglio spingerà Samira a giocarsi sino in fondo le sue chance il bel rendimento europeo di André regala una spinta anche emotiva su ring.com piccola ammiraglia trascina giu zang i report che arrivano dai mercati tracciano uno scenario da incubo per l'asset più importante negli ultimi sei mesi ricavi evaporati e debiti scaduti però ricordiamo che lo fa il Corriere dello Sport il nostro amico Alessandro Giudice c'ha solo ormai il 17% la famiglia zang di suning.com questo e quant'altro ne parleremo stasera in live ore 23 buona giornata ancora a tutti e già vi